Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Amari nemici. Spero che dopo la spedirete su tutti i vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Amari nemici perché sappiamo che esiste gente maligna che esce di casa per provocare gli altri e il loro mestiere dà tutta una vita. Sanno solo fare quello, uscire, invidiare gli altri, prenderli sotto sopra e fare in modo da farli arrabbiare. Ma noi dobbiamo essere buoni, educati, trattarli bene, sorridere per fare in modo che gli erodirà il cuore e forse sarebbe la miccia che potrebbe fare scattare appunto una reazione positiva. Quindi non dobbiamo abbocare ai giocati dei maligni, dobbiamo essere amici e cercare di far capire gli errori che fanno. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Amari nemici. Esiste gente che è maligna, esce di casa per provocare e il loro mestiere dà una vita, sanno solo fare del male. Ma voi che siete buoni, trattateli bene, sorrideteli, dite a loro ma che fate? Sarà per loro una pioggia bollente. Ma voi che sapete amare? Amate i vostri nemici. Nel segreto sapranno apprezzare, si ricrederanno e diventeranno amici. Il mondo è fatto di alti e bassi, ma sta a noi il saper collegare e se buoni e cattivi convivono, il mondo forse si potrà risollevare. Speritelo a tutti i vostri contatti Whatsapp. Grazie. Grazie.